Exo è una delle più grandi se non la più grande azienda di risanamento condotte senza scavo in italia e da vent'anni opera in questo settore e su tutto il territorio nazionale. Lo scavatore a risucchio è un elemento fondamentale sebbene accessorio ma di rilevante importanza nella catena produttiva complessiva di questa attività. Come tutte le tecniche particolarmente efficienti sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista tecnologico c'è una recente fortissima crescente sensibilità quindi sono tutti i miglioramenti produttivi che vengono ben accetti ovviamente sono degli incrementi di produttività proprio dal punto di vista della produttività diretta di cantiere e tutte le ricadute che ci sono nell'incremento delle operazioni ha ridotto impatto ambientale che oggi tanto sono richieste e sempre più riscuotono successo forse anche più del dovuto ma d'altronde è un processo in corso talmente turbolento e talmente incessante che è la via giusta su cui ci stiamo ci stiamo muovendo su cui tutti siamo molto più sensibili di fino a poco tempo fa. Beh per l'affidabilità della della controparte come spesso mi dicono alla Giarotto il corteggiamento è stato molto lungo ma per questo molto più apprezzato quando poi giunge a successo alla fine.